Io c'ho la coscienza proprio pulitissima. Io tra l'altro all'inizio ero pure al piano di sopra, neanche lo sapevo del bordello che c'era sotto. Quando ho visto la situazione ho detto qua arrivano i carabinieri e quindi quando ho visto la situazione me ne sono andata. Io me ne sono andata, me ne sono andata. Ciao scappatine casa, io sono Fabrizio e Valerio è il mio cognome. Benvenuti in questo nuovo appuntamento di TG Talk, il telegiornale più shock del web dedicato al fantastico magico mondo di TikTok. Oh mio Dio sono super emozionated. Alcuni Tik Toker hanno organizzato delle feste per Halloween. Sarà vero? Sarà falso? O sarà che non ce ne frega un ca... Prima di iniziare però come sempre vi ricordo se ancora non l'avete fatto di iscrivervi al mio canale. Qui sotto trovate un tastino con scritto iscriviti e di fianco c'è anche una campanellina. Cliccate anche quella per attivare tutte le notifiche relative ai video che pubblico tutti i giorni o quasi qui sul mio canale. Così da rimanere sempre aggiornati sul gossip, sul trash e anche sul fantastico magico mondo di TikTok. Vi ricordo anche di seguirmi su Instagram dove mi trovate come Fabrizio Valerio ed ovviamente anche su TikTok dove sono sempre Fabrizio Valerio. Ah e ricorda, sì proprio, tu che stai guardando questo video. Cos'è che ti devi mettere se vuoi uscire di casa? Ti devi mettere la mascherina, punto! Ragazzi tenetevi forte perché la paura non fa più 90 ma fa 40 perché siamo giunti finalmente alla quarantesima puntata di TG Talk. Eh? Cos'è? Cosa? Una quarantesima puntata super super shock. Come sempre perché parleremo ancora una volta di polemiche, di cose che mi e vi fanno incazzare. Lo sapete qualche giorno fa c'è stato Halloween, non a caso io oggi indosso un bellissimo giallo ocra? Ma che ne so, vabbè insomma sto giallo perché siamo in tema di Halloween, anche se ormai siamo a un pasto da Natale perché lo sapete che dal primo novembre, cioè subito c'è All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey, nelle nostre orecchie. Detto questo, c'è stato Halloween, tante persone lo hanno festeggiato, questo è stato un Halloween particolare, diverso dal solito perché lo sapete, stiamo vivendo una situazione molto difficile, una gravissima crisi sanitaria, economica. Veramente abbiamo dovuto ridimensionare quelle che sono le nostre vite in momenti di svago anche perché la socialità oggi come oggi non può più far parte così tanto della nostra vita, almeno per quanto riguarda la socialità in posti pubblici. Poi ragazzi, fortunatamente noi sui social siamo appunto molto socievoli, parliamo con tantissime persone, io ricevo tantissimi messaggi e voi non potete capire in un momento così particolare quanto sia importante e bello ricevere dei messaggi, parlare con qualcuno seppur virtualmente. Almeno i social, visto che vengono sempre demonizzati, vengono sempre giudicati come dei posti terribili, fortunatamente ci permettono di avere una socialità alternativa che spesso ovviamente ci accompagna ormai da tantissimi anni, ma in questo momento è una cosa molto preziosa. Infatti io adesso qua farò un annuncio che piacerà a tutti quanti, vi prometto che dato che purtroppo ci sarà un nuovo lockdown, io cercherò sempre di più di essere presente sui vostri schermi, cercherò come ho già fatto nella quarantena di marzo, aprile e maggio, di strapparvi qualche sorriso e soprattutto di tenervi sempre aggiornati giorno dopo giorno, tutti i giorni. Qua spero veramente di farcela, di pubblicare ogni giorno un video, perché ultimamente non l'ho fatto, ma vorrei cercare di essere quei 10, 15, 20, 30 minuti al giorno di spensieratezza, di ma sì parliamo un po', spettegoliamo un po' insieme nella vostra giornata. Questo è quello che mi auguro di poter fare, dato che appunto nuovamente dovremmo rimanere in casa. Detto questo, allora, bando alle ciance, vi dicevo, qualche giorno fa c'è stato Halloween e tante persone hanno ovviamente fatto la cacca fuori dal vaso. E perché dico così? Beh, perché oggi andremo ad analizzare alcune cose che sono successe, alcune feste che non si sarebbero dovute tenere, ma che invece si sono tenute in questi giorni, o meglio, durante la serata di Halloween. Voi lo sapete, mi dispiace parlarne anche nei miei video, perché vorrei cercare di, insomma, non farvi pensare a quello che stiamo vivendo, ma purtroppo ragazzi, lo stiamo vivendo tutti quanti e tutti quanti noi dobbiamo rinunciare a qualcosa, altrimenti rimarremo sempre e comunque in questa bruttissima situazione. Tutti quanti noi conosciamo il decreto, il DPCM, che adesso cambierà e quindi diventerà anche più rigido, con regole più ferre, ma quello che c'è adesso dice, mi raccomando, non fate feste e festini con più di sei persone. Non, insomma, non vi sconsigliamo di far venire a casa vostra altre persone che non fanno parte del vostro nucleo familiare, eccetera, eccetera. Adesso, come adesso, dato che c'è appena stato Halloween e poi ci sarà Natale, ma a Natale spero tanto che cambierà qualcosa, forse, dico forse, è un momento nel quale non si devono fare feste, non si devono invitare 20.000 persone in casa propria. Non bisogna, forse, facciamo così, non bisognerebbe, anche se vi ripeto, è una legge, c'è un decreto, quindi se un decreto vieta delle feste, non è che ci si va alla festa, perché ci sono i miei amici, ma sì, siamo tutti negativi, tamponi, di qui di là. No, ragazzi, mi dispiace tanto, ma oggi come oggi noi non possiamo sapere se un nostro amico, un nostro conoscente è positivo oppure no. Non lo possiamo sapere, perché ci sono tante persone che non hanno sintomi. Adesso io vi dirò una cosa, sembra una cosa stupida, fuori dal normale, ma se mia nonna, ad esempio, viene a casa mia e porta la pasta fatta in casa, visto che lei porta sempre pizza fatta in casa, i suoi hot dog, la pasta fatta in casa, eccetera, eccetera, io non la saluto. Cioè nel senso, la saluto da lontano, stiamo a distanza, non ci baciamo e anche in un piccolo nucleo familiare cerchiamo di evitare alcune cose che sembrano stupidaggini, sembrano cose, oh mio Dio, ma che esagerazione. Però ragazzi, se veramente amiamo le persone che vivono con noi, che sono nostri parenti, i nostri nonni, soprattutto le persone più anziane, visto che sono quelle più colpite, cerchiamo in qualche modo di evitare, di arrivare poi ad un punto di non ritorno, perché poi è veramente brutto piangere sul latte versato. Quindi con questo video io oggi non voglio puntare il dito contro nessuno, non mi va, non voglio creare situazioni particolari, non mi va di sparare a zero su persone che neanche conosco, qua noi parliamo di gossip, sì, parleremo anche di una tiktoker che fortunatamente ha detto la sua, visto che è stata tirata in ballo. Ho visto tante altre cose che in questi giorni sono state pubblicate e non pubblicate sui social da parte di altri tiktoker, ma evito di parlarne. Inizialmente ho detto no, la gente deve sapere, no? Devono vedere con i loro occhi, gli screenshot, eccetera, eccetera, perché tanti di voi mi hanno mandato delle prove shock, vergognose, pubblicate da terze persone che erano con questi tiktoker. Io ho deciso però di non fare una caccia alla strega oggi, non mi va di puntare il dito contro queste persone. Perché dico così? Perché in un momento così delicato, se una persona è intelligente, se una persona è rispettosa, se non si è ipocriti, questa è una parola che dovete segnarvi bene in fronte, in testa, ipocrisia. Se io sono rispettoso delle regole, di un decreto, ma soprattutto ragazzi, se io rispetto soprattutto il lavoro di medici, infermieri, os e quant'altro ragazzi. Ma io parlerei anche di chi lavora nei supermercati, che continua a dare cibo alle persone. Parlo veramente di tantissime persone che oggi come oggi stanno mettendo a rischio la loro di vita per persone stupide, che continuano ad andare in giro anche se non serve. E in questo caso ha persone, cioè è assurdo che in un momento così delicato ci siano dei ragazzi giovani e non ragazzi, perché io ho visto anche adulti che hanno fatto di tutto, anche oltreoceano, star importantissime, personaggi super conosciuti, hanno veramente fatto cose terribili. Ma lì sono in America e quindi in America, si sa, si curano solo le persone che si possono permettere la sanità privata e quindi stigrancavoli della povera gente che muore. E quindi va bene così, no? Si fanno le feste di Halloween, eccetera, eccetera. Ma qui in Italia, dato che abbiamo la fortuna di vivere in un paese che ci dà sanità pubblica, noi non dobbiamo pagare 1.000, 2.000, 3.000 euro all'anno per avere un'assicurazione sanitaria. Quindi credo che il minimo che noi possiamo fare nel nostro piccolo è proprio quello di rispettare il lavoro di persone, ve lo ripeto, medici, infermieri, os, ma anche chi lavora al supermercato, che mette la propria vita a repentaglio per salvarle delle altre. Se noi non rinunciamo alle feste, agli aperitivi, e scusatemi ma mi va via la voce perché sono veramente anche molto scosso da tutto questo, se noi non siamo disposti a tagliare un qualcosa della nostra vita, lo so ragazzi che dopo una giornata a scuola, una giornata a lavoro, tutti quanti noi vorremmo andare in giro e vivere tranquillamente la nostra vita, facendo un aperitivo, andando da un amico, andando al cinema, andando ovunque. Ma non è possibile. Non è possibile perché ci sono delle regole da seguire. E se una festa non si può organizzare, e se una festa non può avere più di sei persone lì presenti, chiuse in uno stesso luogo, questa festa non si deve fare. Detto questo, perché parliamo di TikTok che hanno organizzato feste durante Halloween, anche se non si poteva, bla bla bla? Beh, perché tutto parte da un post che è stato pubblicato dai miei amici di web.it, che poi è stato eliminato, quindi anche qua prenderò con le pinze quello che posso dirvi, ma non perché è insomma il terzo segreto di Fatima, ma perché, più avanti poi lo vedremo, questo post è stato eliminato, è stato chiesto dalla diretta interessata di cui adesso parleremo, di eliminare questo post. E infatti oggi parleremo veramente a 360 gradi, proprio perché io voglio partire da zero, per poi dare la possibilità a questa persona di spiegare il suo punto di vista. Ho visto anche che, purtroppo, nessuna delle pagine gossip ha riportato poi la notizia, cioè le parole di questa ragazza. Secondo me non è giusto, perché, vabbè, forse per carità si parlava poi di una diretta che lei ha fatto, io sono riuscito ad avere le immagini perché l'ho vista questa diretta e sono contento anche di essere riuscito a prendere le sue parole e a far raccontare la sua verità. Infatti oggi la vedremo insieme. Parliamo di chi? Parliamo di una TikToker super amata, super discussa però anche per cose passate, eccetera, eccetera, perché lei è una delle tre super chicche. Non parliamo di Annacciati, non parliamo di Gaia Bianchi, anche se stanno succedendo anche lì un po' di cose, me le avete mandate e aiuto ragazzi, vi prevedo dei dissing in arrivo. Parliamo di lei, Giulia Paglianiti, che già in passato ha fatto molto, molto discutere per la sua storia travagliata con Tancredi Galli. Detto questo, perché parliamo di Giulia Paglianiti? Beh, perché dal nulla sul web sono uscite delle immagini super super shock di lei che era lì ad una festa organizzata da un suo amico, una villa o insomma una casa piena zeppa di persone. Una vera e propria festa di Halloween con tantissimi invitati, tanti sicuramente, più di sei. E che cosa faceva la nostra Giulia in quella festa? Insomma, è stata ripresa da questa persona che ha organizzato tutto quanto, almeno questo è quello che ho capito, mentre stava bevendo da una bottiglia lo spumante champagne, scusatemi ragazzi, non lo so. Fatto sta comunque che in tempo zero queste immagini hanno fatto il giro del web. Ma c'è un ma grande quanto una casa, perché queste stories che sono state viste da chiunque, in realtà sono state cancellate dal diretto interessato che credo sia un cantante rapper, se non mi sbaglio, ma parliamo invece della nostra Giulia Paglianiti, di questa tiktoker che è finita nuovamente nell'occhio del ciclone, ma soprattutto nel mirino delle critiche da tutte le persone qua sul web. Webbo pubblica questo post in cui si dice che Giulia Paglianiti era presente a questa festa privata che andrebbe contro il DPCM e la stessa Giulia risponde nei commenti, perché infatti lei scrive Io me ne sono andata molto prima che succedesse tutto quello, comunque. Non sapete niente? E parlate. Queste parole di Giulia però non sono bastate a placare gli animi infuocati del web, tant'è infatti che tantissime persone si sono subito scagliate contro la tiktoker. Così, appunto, per evitare di, insomma, creare anche, secondo me, un ambiente negativo di insulti e basta nei confronti di Giulia, Webbo, sotto richiesta della stessa Giulia, ha deciso di eliminare il post. E infatti i nostri amici di Webbo.it hanno scritto un altro messaggio nelle loro stories, scrivendo Giulia Paglianiti ci ha chiesto di eliminare il post. Ci ha scritto per chiarire la situazione. Dice che lei era andata da un amico per festeggiare Halloween, ma aveva capito che fosse una cosa tra pochi amici. Ci ha raccontato che quando ha visto che la situazione non era come si aspettava e che c'era più gente del previsto, se n'è subito andata. Fidiamoci. E così, dopo la pubblicazione di questa storia da parte di Webbo.it, Giulia Paglianiti ha poi voluto fare una diretta Instagram nella quale ha spiegato per filo e per segno a tutti i suoi followers il perché fosse lì e soprattutto ha fatto chiarezza, una volta per tutte, sul modo in cui lei, insomma, ha festeggiato Halloween e diciamo che non è come è apparso realmente in quelle stories. Guardate. Faccio questa diretta perché devo chiarire delle cose. Allora, innanzitutto, se oggi non ho fatto storie è perché stavo male, perché i miei non c'entrano più la sua storia anche perché l'ho scoperta quando è uscita, perché non avevo idea di quello che era successo. Io ho la coscienza proprio pulitissima e ora vi spiego anche il perché. Allora, cosa è successo in sostanza? Io ho avuto uno shooting che mi è durato tantissimo, motivo per cui non ho fatto le storie anche il giorno prima, infatti ho fatto zero storie in tutti questi due giorni. Ho fatto appunto questo shooting che mi è durato tantissimo. Una certa, praticamente io non so se lo sapete, io ho la mia compagnia e quella tipo di Ronde e gli altri, no? Mi avevano detto che avevano preso questa casa, ma c'era la compagnia. Io non sapevo niente delle altre persone, niente. Come è successo? Io sono arrivata tardi perché appunto avevo questa cosa da fare. Quando sono arrivata, ho visto la situazione, infatti avevo ancora la mascherina sul polso, tra l'altro. Io sono arrivata, ho visto la situazione e erano tra l'altro non tanto prima delle 11, era tipo boh le 10 e mezza, non mi ricordo che ore erano. Comunque era più o meno quell'ora lì. Quando ho visto la situazione ho detto, qua arrivano i carabinieri sicuro, sicuro arrivano i carabinieri. Io ero al piano di sopra, ma ancora non ero manco scesa per vedere la gente che c'era sotto, che era nelle altre ragazze. Hanno cominciato ad imbocarsi persone che io non conoscevo, tra l'altro. Io sapevo che c'era solo la compagnia, la compagnia non erano 7 persone, erano tipo 8. Però comunque era una casa grandissima e io non avevo idea di che c'erano tutte quelle persone. Quando è successa la cosa che mi sono resa conto che c'erano tutte quelle persone, e ve lo posso giurare, io tra l'altro, pensando, a parte la cosa dei carabinieri, io ho insistito su un mio amico, cioè se vogliamo proprio dire tutta la verità, tutta la verità, c'era questo mio amico che praticamente ha dei processi in ballo in questo periodo, no? E cosa succede? Queste cose, queste cose sono delle aggravanti pesanti in un processo. Cioè se è uno che già ha problemi, succedono queste cose, allora gli rompono molto più il cazzo che una persona che ha la fede di una penana punita. Quindi a maggior ragione io sono andata da questo qua, gli faccio, senti, tu qua stasera non ci stai, perché succedono un botto di bordelli, quindi tu adesso vieni con me e ce ne andiamo da qua. Io ho portato a casa questo ragazzo, con troso volontà tra l'altro, e me ne sono andata a casa. Io quando è successo tutto quel put***o non c'ero, e se non ho fatto storie è perché appunto ho i c***i miei, io sta cosa l'ho scoperta quando è uscita. Motivo per cui ho scritto a quello della pagina, e gli ho detto, guarda le cose non sono andate così, perché io che c***o ne sapevo di quelle persone che c'erano, non potevo saperlo, o no. E quindi quando ho visto la situazione me ne sono andata, punto, punto. Così è andata la situazione. Che poi voi mi vogliate credere o non mi vogliate credere, non mi credete, non me ne f***o un c***o, punto è andata così, anche perché non avrei motivo di dirvi c***ate. E la cosa del mio amico, che è verissima, è verissima, cioè se volete ve lo faccio dire pure dal mio amico, fa niente, ma mi sto dimoralizzando perché leggo gli insulti, ma io tra l'altro all'inizio ero pure al piano di sopra, neanche lo sapevo del bordello che c'era sotto. Vabbè, comunque sta di fatto che io me ne sono andata a prendere 11 sulle prove, anche perché il video mi è uscito molto prima, e io me ne sono andata, posso giurarlo che me ne sono andata. Ho detto dobbiamo andarcene, perché qua arrivano i carabinieri, ve lo posso giurare. Poi non mi volete credere, oi che c***o devo fare? Non mi credete, scialla, amen. Io me ne sono andata, me ne sono andata. Ovviamente ragazzi, questa è la versione dei fatti, e soprattutto la verità di Giulia Paglianiti. Io sinceramente, mi sento anche di crederle, perché effettivamente, in quella famosa storia pubblicata dal suo amico, lei aveva ancora la mascherina qui al braccio, quindi io penso che, insomma, sì è vero, tante persone ormai la mettono al braccio come se fosse un accessorio, chiamiamolo così. Però, penso che insomma, appunto perché si è esposta sui social, evidentemente, vedendo l'andazzo della situazione, soprattutto, insomma, essendo anche, secondo me poi, non ti trovi neanche tanto a tuo agio, vedendo tante persone, almeno io non mi sentirei a mio agio, circondato da persone che non conosco, che non so che vita fanno, ma mi sentirei male anche ad essere, anche in sei persone in una stanza, che magari non conosco bene, mi sentirei non al sicuro, perché vi ripeto, oggi come oggi, chiunque di noi, anche se ci conosciamo da una vita, anche se pensiamo di non avere una vita sociale, e quindi ci rinchiudiamo in casa, potremmo essere, comunque, delle persone che contagiano l'altro. Adesso io non voglio fare il paladino della giustizia, la persona che va ad additare chiunque, no ragazzi, io però parto da quello che faccio io, io veramente non ho fatto feste con 5.000 persone, ho veramente cercato di evitare questi, non so come dirvi, queste situazioni, tant'è infatti che in famiglia, non abbiamo festeggiato dei compleanni, e se li abbiamo festeggiati, eravamo noi, di casa mia, tre, massimo, quattro persone, se c'era mia nonna, punto, stop, e mi dispiace vedere che ancora persone, importanti oppure no, conosciute o anche meno, continuino a festeggiare qualsiasi cosa, anche veramente cose inutili, qualsiasi scusa è buona per festeggiare, cioè, io conosco anche una mia amica, che ha annullato la sua festa di laurea, e non è una cosa bella, perché ovviamente è un traguardo importante, vorresti festeggiarlo con i tuoi amici, ma lei ha evitato, e io penso che lei sia una delle poche, perché tutte le altre persone, che vedo anche su Instagram, hanno veramente fatto, cioè, proprio, un matrimonio napolitan, grandi feste, in grandissime, cioè, in grandissimi numeri, che secondo me, in un momento del genere, anche no, soprattutto perché, veramente, cioè, io mi sentirei anche in colpa, cioè, nei confronti delle persone che invito, e non è una cosa normale, c'era ad esempio anche, una cresima, che dovevamo festeggiare in casa, cioè, non in casa, nel senso, nella mia famiglia, ma, ovviamente, credo fosse, boh, il 7 novembre, mi pare, è ovviamente stata annullata, anche perché ragazzi, anche no, cioè, saremmo stati 20 invitati, e non è possibile, oggi come oggi, non è possibile questa cosa, e quindi non si fa, pazienza, ci rifaremo più avanti, chi deve festeggiare il suo compleanno, lo festeggerà più avanti, chi deve festeggiare qualsiasi cosa, ragazzi, sono slittati i matrimoni, tutto quanto, perché, ovviamente, viene prima la salute di tutti noi, piuttosto che, per carità, degli eventi importanti, sì, però che in questo momento, potrebbero fare la differenza, in modo negativo, e quindi, non devono essere fatti, stessa cosa, ovviamente, vale per queste, benedette, feste di Halloween, che, sinceramente, si potevano evitare, meno male, che Giulia, ha preso le sue cose, e se ne è andata, perché, insomma, secondo me, ha fatto anche bene, soprattutto per quanto riguarda la sua di salute, perché stare con tante persone che non conosci, in un posto, magari, perché ovviamente, mentre tu bevi, non è che hai la mascherina, quindi, forse, meno male Giulia, che hai preso le tue cose, e te ne sei andata a casa, hai fatto benissimo, detto questo, io avrei voluto parlarvi di tante altre cose, di alcune persone, sul web, che magari voi seguite, che apprezzate, che il caso vuole, che ad Halloween, non abbiano pubblicato niente, cioè tipo, dalle nove di sera, fino alle dodici, quindi a mezzogiorno, del giorno dopo, non hanno pubblicato nessuna foto, ed io, ho visto foto, video, stories, di queste persone, che inquadravano la casa, piena, di sacchetti, del McDonald, di qui, di là, di su, di giù, vi ripeto, io non voglio attaccare nessuno, non voglio neanche, tirare frecciatine, cose, non mi interessa, però, penso che, al primo posto, venga, la sincerità d'animo, il che vuol dire, che, se io ho fatto un qualcosa, quindi, se io ad esempio, ho fatto una festa, con 50.000 persone, io, prendo il mio coraggio, e lo dico, se io penso, di aver fatto una cosa, giusta, nell'invitare, 20 persone in casa mia, e faccio le storie, perché secondo me è normale, quindi le pubblico, dato che questa cosa, non è stata fatta, da tante persone, che, quindi io mi chiedo, forse queste persone, cioè, ogni anno, si fanno mille storie, su, su Halloween, su come si festeggia, quest'anno, il caso vuole, che tante persone, sul web, non abbiano fatto storie, ma come mai, cioè, neanche una foto, di una pizza, e un film, perché io ho fatto questo, ragazzi, io, non ho fatto grandi cose, sono stato a casa, del mio fidanzato, abbiamo ordinato una pizza, anzi, siamo andati a prenderla noi, e, e abbiamo guardato, prima ballando con le stelle, e poi un film, punto, stop, questo è stato un sabato sera, di Halloween, che io, ho passato quest'anno, non me ne vergogno, sono anche contento, di come sia andata la serata, non mi sento meno, perché, non ho organizzato, una mega festa, con drink, spritz, e quant'altro, cioè, cerchiamo anche, di capire la situazione, che stiamo vivendo, e forse, era un po' fuori luogo, no? Invitare persone in casa, fare feste, e mi dispiace, che di mezzo, poi, ci vada esclusivamente, il pubblico, che segue queste persone, perché, se io stima, nei confronti, di un tiktoker, di un influencer, di un youtuber, di una persona del web, che non conosco, ma che conosco, tramite i social, ovviamente, io, giudico, commento, ciò che vedo, se non vedo nulla, dico, ah vabbè dai, questa persona, non ha festeggiato, ad Halloween, peccato però, che ragazzi, secondo me, è palese, che non sia così, e mi dispiace, perché il pubblico, poi viene preso in giro, tante persone, secondo me, non sono sincere, fanno finta, di dare il buon esempio, sui social, e poi, offline, perché non è neanche, la vita reale, perché la vita reale, è questa ragazzi, è semplicemente, quello che vedete sui social, è un prolungamento, della nostra vita, ok, perché è sempre reale, quello che vedete, è reale, almeno da parte mia, le mie emozioni, quello che racconto, è tutto reale, non mi invento le cose, non me le scrivo, chiaro? Io penso, che ci debba essere, più sincerità, da parte di chi è sui social, e che dovrebbe, veramente, se vuole, dare il buon esempio, sinceramente, non far finta, di fare la cosa giusta, perché poi, queste stesse persone, adesso, che ci sarà, un secondo lockdown, si riempiranno la bocca, di frasi del tipo, io resto a casa, massimo rispetto, per i medici, per gli infermieri, e poi sono i primi, che due giorni prima, erano lì, in 50.000, in una stessa stanza, a festeggiare Halloween, contro tutte le regole, del decreto, del DPCM, di Conte, di tutto quanto, come sempre, infatti, io dico che, codice sconto, coerenza, zero. Insomma, ragazzi, questo era tutto quello, che pensavo, di tutta questa vicenda, io, da una parte, sono contento, infatti, l'ho anche detto, nelle mie stories, di Instagram, tutto quello, che ho detto, a grandi linee, non era assolutamente, riferito a Giulia Paglianiti, che fortunatamente, forse perché, vabbè, poverina, è stata beccata, tra virgolette, con quelle stories, foto, che abbiamo visto, è stata l'unica, però, a dire le cose, come stanno, e cioè, a chiarire, ciò che ha fatto, ad Halloween, a dare una spiegazione, secondo me, anche abbastanza valida, e lei è stata l'unica, almeno, ad aver avuto, la decenza, di spiegare, un po', quello che è successo, tante altre persone, invece, non lo hanno fatto, hanno preferito, non condividere, la loro serata, di Halloween, perché, ovviamente, presumo, abbiano, fatto feste, festini, con più di sei persone, e quindi, hanno fatto finta, di nulla, un Halloween, completamente, in silenzio, tutti quanti, hanno fatto detox, sui social, wow, complimenti, vabbè, non so, sarà forse, un caso, sarà invece, che è assolutamente vero, e tutti quanti, hanno smesso, di utilizzare i social, dalle 10 del 31, insomma, ottobre, quindi Halloween, alle 12, quindi mezzogiorno, del giorno dopo, ma, si, può darsi, magari, mi sto inventando tutto io, mi sto facendo castelli in aria, solo io, e, è tutto una casualità, staremo a vedere, no, perché non ne parleremo neanche più, non mi va, ve lo ripeto, insomma, di attaccare qualcuno, però, volevo, volevo dire quello che penso, perché, non si può, secondo me, sorvolare, su queste mancanze di rispetto, nei confronti, del pubblico, ma, ve lo ripeto per l'ennesima volta, nei confronti, di chi, ogni giorno, ci permette, di avere qualche letto in più, negli ospedali, che ci permette, di avere una speranza, per andare avanti, nella nostra Italia, del 2020, che, insomma, non è cosa da poco, detto questo, però, adesso, fatemi sapere voi, qui sotto nei commenti, cosa ne pensate, come avete festeggiato Halloween, fatemi sapere tutto quanto, sono molto curioso, e, se avete fatto anche voi, quello che ho fatto io, cioè, stare a casa, a guardare un film, con la copertina, la pizza, e basta, neanche la Coca Cola, l'ho bevuta o no, la Coca Cola? No, mi sa di no, manco la gioia della Coca Cola, della Pepsi, anzi, che ultimamente, mi piace, la Pepsi, vabbè, insomma, fatemi sapere adesso voi, cosa avete fatto ad Halloween, se anche voi avete visto, silenzi strani sui social, non lo so, io sinceramente, boh, rimango un po' basito, però, forse questo è il mio pensiero, e mi sbaglierò, detto questo, il video può finire qui, spero tanto che vi sia piaciuto, se è così, lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale, se ancora non l'avete fatto, e qui sotto, trovate tutti i miei social, dove potete seguirmi, io e Mark, vi salutiamo, e noi ci vediamo, in un prossimo video, vero Mark, vai, saluta, Mark, vabbè ragazzi, anche oggi noi, ci abbiamo provato, ciao.